ciao bello ma dove vai? io ti conto non capivo come funziona la seconda fase di coronavirus no me lo immaginavo comunque monta da retta vieni te lo spiego io perlomeno ci provo perché ce lo capivo qua anche io monta allora praticamente possono tornare a lavorare tutti a parte quelli che non lavoravano prima chiaro? ho più una spuma ai barre? ehi la spuma semmai tu te la fa mettere in un sacchetto e te cauei allora andrò a fare l'amore alla mia donna da retta vai io ascoltalo buon consiglio pensaci da te ma cambia mano ogni tanto fatele alla sinistra che sembra te le faccio un'altra più di 40 giorni sono chiuso in casa sorto di nascolto e mi rintoppano subito ma io forno a Andreo e poi pidevo la spuma o veniamo allora non ci siamo capiti mi dici in dottuvai gli è chiuso ogni cosa non puoi andare a prendere la spuma non puoi gli è chiuso ogni cosa c'è il verdone